Gravando Guarda che tal Wow Guarda che 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 e la rodilla si sta guardando ok, credo che stai guardando l'altro giorno? no, nel partito te molesta la esquina, no? no, io non mi dolore tanto è la prima giusta e si vuole in la esquina non sai? vale, questo è strattagia lo facciamo un piccolo ma anche veramente da via ciao 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.